Vi avviso, questi dovrebbero essere illegali, sono troppo buoni i condombrè di zucchine. Prepariamoli insieme. Prendi le zucchine e tagliate a fette sottili. Aggiungi al centro prosciutto e provolone. Passali nell'uovo sbattuto, poi nel pangrattato. Falla aderire bene e adagia due cornomblé su una teglia con carta forno oleata. Al termine aggiungi un filo d'olio e trasferisci in forno caldo. Ed eccoli qui, croccanti e filanti. Buon appetito amici, ciao!